Il partito Lega, il movimento Lega non è né di destra né di sinistra. Posto fascista non ne parliamo nemmeno, i fascisti mi fanno schifo. A lei i fascisti fanno schifo? A me i fascisti fanno schifo. Si può dire, c'è tante altre cose che mi fanno schifo, tra queste anche i fascisti. Lo dice e lo ripete Bulldog Roberto Marcato nel corso di ring, tirando le fila di una pontida mai così a destra, ma un conto sarebbero i militanti, un altro gli alleati del momento. Quando ho parlato di Vannacci non c'ero, sono andato via proprio quando ha finito Zaia, sono andato via perché avevo altri impegni. Siccome per me la coerenza è un valore in politica, come nella vita, io continuo a pensare che Vannacci con la Lega non c'entri assolutamente nulla, punto. E Orban? Manco ancora. A Pontida Marcato c'era e come, non sul palco però, nemmeno nel momento topico dello srotolamento della bandiera di San Marco, assenza che il diretto interessato spiega così. Quando è arrivato il messaggio di andare, di avvicinarsi al palco per salire, perché c'è tutto un tema di accrediti, bisogna andare per tempo, io ero fuori in macchina. Beh, Roberto Marcato non ha bisogno di accrediti a Pontida. Ah, beh, ma devi presentarti prima, tutta una iostra, vabbè, insomma, un burocrazio anche là, vabbè, ma insomma, nessun problema. Io ero ancora in macchina, punto. Una volta sul pratone, l'affetto di militanti, selfie e abbracci. Forse arriva prima, sarei andati su. Caso chiuso? Assolutamente no. È qui che scatta il fuoco amico. Sulle pagine social del mattino di Padova, il consigliere regionale leghista Giulio Centenaro mette in discussione la ricostruzione di Marcato. Le coincidenze possono accadere, ma io ci credo poco. Noi con Luca Zaia eravamo tutti sul palco, scrive Centenaro. Apriti cielo. Con un segretario che è sotto scacco perché gli stanno chiedendo, cioè lo stanno valutando se mandarli in galera oppure no. E con l'autonomia che ha le più forti resistenze del mondo, mi credo che dovremmo preoccuparci di questo, piuttosto che fare i post contro un collega. Andare sul mattino di Padova e attaccare un collega. rompe un tabù che secondo me può dare la stura ad altri interventi che non farebbero bene al partito. Questi sono problemi della segreteria di partito che so che su questo è intransigente. A me non interessa, ripeto, non lo conosco benissimo, per cui immagino che abbia molto tempo da perdere. Beato Lu... Grazie. 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 Grazie.